18 APR, far conoscere l'attività dell'associazione No Profit Food for Soul, fondata da Massimo Bottura, e raccogliere fondi per sostenerne i progetti. Questo l'obiettivo della cena di mercoledì sera Respect Food Nigt, evento del fuorisalone organizzato da Grundig, brand storico nell'elettronica di consumo, all'interno del Castello Sforzesco, concesso grazie al patrocinio del Comune di Milano. All'appello di Chef Bottura hanno risposto suoi colleghi e amici che insieme rappresentano 13 stelle Michelin, tra cui Andrea Burton, Burton, Milano, Enrico Cerea, Da Vittorio, Bergamo, Carlo Cracco, Cracco in Galleria, Milano, Antonio Guida, Sieta, Mandarino Oriental Hotel Milano, Giancarlo Morelli, Pomiru, Monza, Mattia Sperdomo, Contraste, Milano, e Viviana Varese, Alice Italy, Milano. L'associazione Food for Soul è impegnata nell'apertura di refettori e mense comunitarie nel mondo e nella sensibilizzazione alla lotta contro lo spreco alimentare.